Due top manager di Gardaland indagati per fatture false e corruzione privata. Si tratta di Danilo Santi, da oltre 20 anni direttore generale del Parco Divertimenti, e di Francesco Alessandro Giannotta, dal 2008 in sella come direttore tecnico. L'accusa, secondo la procura di Verona, è quella di aver manipolato gli appalti, chiedendo ai fornitori di gonfiare o emettere fatture false per ottenere un tornaconto personale. Il tutto all'oscuro della proprietà e del resto della dirigenza. Perquisiti sia gli uffici sia le abitazioni private dei due, un'indagine è partita dopo la denuncia alla Guardia di Finanza delle ditte esterne che lavorano nel parco o nei resort collegati, sulle quali le pressioni da parte dei due indagati sarebbero andate avanti da tempo. Addirittura, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, chiedendo agli appalti il taglio degli stipendi dei dipendenti per gonfiare ancora più i costi da presentare ai vertici del gruppo Merlin, da qualche anno proprietario di Gardaland. Sulle ipotesi di reato sono al lavoro le fiamme gialle di Verona che, su precisa disposizione del magistrato che coordina l'inchiesta, mantengono il più stretto riservo sull'indagine.